Tra le cose importanti del lupus e del traumatoso sistemico sono gli obiettivi terapeutici. Ne abbiamo parlato durante il meeting Cora 2015 in corso a Sorrento con la dottoressa Maria Celeste Fatone dell'Universario di Studi di Bari, Medicina Interna a Baccelli. Allora dottoressa Fatone, innanzitutto cerchiamo di capire quali sono gli obiettivi terapeutici dell'ES del lupus. Ottenere una remissione completa nel lupus è al momento un'utopia, nonostante diversi presidi terapeutici. Quindi è bene accontentarsi di ottenere almeno un periodo di malattia in cui non si utilizzino i corticosteroidi che, ben sappiamo, sono farmaci carichi di notevoli effetti collaterali. Per quanto riguarda invece il danno d'organo, cosa ci può dire? Il danno d'organo è a tutt'oggi il principale incriminato delle complicanze a lungo termine del lupus. Parliamo essenzialmente di danno renale. Effettivamente, per ridurre il danno d'organo, è importante un stretto follow-up in cui il paziente, in collaborazione con il medico, impari a riconoscere il momento in cui sta per giungere un flare di malattia. In particolare, il danno renale risulta essere, assieme alla terosclerosi, la complicanza più pericolosa del lupus. I farmaci biologici, in particolare il Belimumab, si sono rivelati fallimentari negli ultimi studi nel ridurre il flare nefritico. Tuttavia, poiché riescono a ridurre il titolo degli anti-DS e DNA, si presume che riescano a prevenire l'insorgenza del danno renale se stesso. Sembra emergere, dalle relazioni anche di questo congresso, la diretta connessione tra giusta terapia e giusto paziente nel lupus. Cosa ci vuol dire in merito? È necessario cucire la terapia addosso al paziente e cucire il follow-up. Effettivamente, una donna molto giovane non può assumere per un lungo periodo farmaci corticosteriodei o immunosoppressori perché sarebbe a scapito del suo potenziale di fertilità. Per questo proposito è bene impostare una terapia con farmaco biologico che permetta di risparmiare sia i corticosteroidi che gli immunosoppressori. Cos'è che nel lupus condiziona maggiormente la qualità di vita del paziente? Il lupus è una patologia in cui si embricano diversi sintomi, tra cui molto spesso sintomi soggettivi. Perché se nell'artrite reumatoide il paziente ha un nemico di fronte a sé, cioè il danno articolare, spesso il nemico nel lupus è più vago. Quindi il lupus si presenta spesso con sintomi come astemia, fatigue, intensa spostatezza, soprattutto in pazienti giovani e attivi dal punto di vista lavorativo che dovrebbero condurre una vita quotidiana normale. A questo proposito infatti i farmaci biologici riescono a dare uno sprint a tali pazienti riducendo questi sintomi soggettivi che spesso paradossalmente sono aggravati dalle terapie immunosoppressive.